è vicino Piccicata a noi, piccicata a noi. Pallo. L'obiettivo è stato aggiornato. Niente, 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 niente. Lascia gli ono, lascia gli ono. Perfetto. Sì, ragazzi, lag. Posso fare la blu se non se la volete. No, sono incendiati, tranquillo. Non possono avanzare. Poi, Tams, qua. Partici, se ride. No, no, no. Zero kill. Qua c'è quello con lag, invece. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Porta, porta, porta. Ancora, fermo? Ho giochito, eh. Vai, cagare, coltivo. Poi dice che la sua squadra non gioca pulito, ma vai, cagare. Alza. No. Vai, vc, vc, prima arrivano tutti, ragazzi. Puzzo a 30. Bravo, me. Vai, cagare. Vai, cagare, cagare, cagare. Non ci siamo in qui. Vai, cagare. E poi, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Non gli manca l'ultimo, raga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.